Smart Life Festival Io sono il professor Thomas Casadei lavoro presso il Dipartimento di Giurisprudenza insieme ad alcuni colleghi e colleghe abbiamo istituito qualche anno fa nel 2016 un centro di ricerca interdipartimentale sulle discriminazioni e le vulnerabilità che tiene in dialogo ricercatori e ricercatrici dei Dipartimenti di Economia, Giurisprudenza e Ingegneria il direttore del centro è il professor Gianfrancesco Zanetti fanno parte di gruppi di lavoro che animano discussioni anche sulle questioni digitali la collega Tindara Dabbo la collega Claudia Canali che ascolteremo tra poco Simone Scagliarini e potrei continuare perché l'idea è di lavorare insieme su questioni su dilemmi, su problemi e in particolare per il contesto che ospita questa nostra conversazione lavorare anche su ciò che spesso non è messo a tema le forme di esclusione, le forme di diseguaglianza le questioni della povertà educativa il divario, forse meglio dire oggi i divari digitali e abbiamo pensato anche per portare un contributo come Ateneo a questa importante manifestazione di presentare alcune progettualità alcune iniziative, alcune sperimentazioni che da qualche tempo a partire dal contesto accademico mettono in dialogo diversi soggetti istituzionali, associativi, sportivi e di presentare alcune in particolari iniziative che stanno riscontrando un importante riconoscimento in termini anche di partecipazione delle nuove generazioni su un uso diciamo partecipativo e anche direi democratico delle tecnologie ragioneremo sulla funzione sociale delle tecnologie e su quali possono essere le buone pratiche per contrastare forme di esclusione e appunto di diseguaglianza perché ragionare di questo nell'ambito di questa manifestazione? perché è assolutamente rilevante assolutamente significativo illustrare le potenzialità l'abbiamo visto ieri ragionando di Smart Cities proprio nella mattinata si sta ragionando parallelamente a questa nostra riflessione sull'uso dei dati in ambito sanitario ci sono grandi potenzialità che le tecnologie che la rete offrono e che è bene conoscere sviluppare rafforzare all'insegna della promozione della cosiddetta cittadinanza digitale le istituzioni europee molto stanno lavorando su questo ci sono non solo risoluzioni atti di indirizzo ma anche diciamo profili normativi nello stesso tempo però e crediamo che questo sia un compito appunto anche del mondo accademico è importante vedere ciò che rischia di restare i margini o addirittura di non essere visibili ovvero quali sono le forme che impediscono o ostacolano un accesso ampio diffuso esteso alle tecnologie quali sono appunto le ragioni che generano delle forme di diseguaglianza di mancato accesso di esclusione o di parziale inclusione ai mondi della rete l'abbiamo visto con la pandemia che cosa possa significare non poter accedere ad un sistema che come dire consente una prenotazione molto semplicemente molto prosaicamente per come dire fare i conti con situazioni di tipo sanitario oppure avere difficoltà a conoscere come funzionano alcuni aspetti tecnici lo speed tipicamente che sono come dire elementi quotidiani che sono emersi in maniera molto potente e abbiamo pensato appunto anche nell'ottica della cosiddetta terza missione dell'università ovvero la funzione sociale delle attività accademiche che da qualche tempo le università sono chiamate a svolgere oltre alla didattica e alla ricerca che fosse importante far conoscere ciò che facciamo ciò che si fa presso l'università di Modena in Reggio Emilia su queste tematiche e l'idea maturata anche guardando ad alcuni progetti appunto che coinvolgono associazioni istituzioni ragazze e ragazze studenti universitari studentesse universitarie ma anche ragazze e ragazze degli istituti delle scuole secondarie per ragionare di questi temi passerò fra poco la parola abbiamo immaginato appunto un dialogo che possa portare qui in qualche modo una serie di esperienze e partiamo dalle esperienze che sono peraltro numerose che l'amico il collega il professor Loris Vezzali porta avanti nell'ambito diciamo di una serie di contesti Loris il professor Vezzali è docente di psicologia sociale fa parte del comitato organizzatore dell'Equality Week insieme alla collega la professoressa Tinder Adabbo e altri colleghi che proprio in questi giorni hanno realizzato a partire dalle università una serie di iniziative di promozione dell'inclusione del contrasto alle discriminazioni del contrasto appunto alle varie forme di divario e anche di divario digitale Loris Vezzali lavora su un territorio diciamo che dal micro Reggio Emilia Modena si apre ad uno scenario europeo fa parte di diversi progetti e ci illustrerà quali sono le caratteristiche di questi progetti che mirano che hanno proprio l'obiettivo specifico di contrastare ogni divario e di valorizzare la funzione sociale delle tecnologie e di promuovere delle pratiche di interazione inclusiva questo è un po' il titolo che abbiamo scelto per questa conversazione lo ringrazio molto partiremo da un dialogo diciamo tra noi che poi si allargherà ascolteremo poi un intervento della professoressa Claudia Canali che non può essere qui con noi ma ci ha ha preparato per questa occasione un video di presentazione di un'altra esperienza e poi non aggiungo altro perché è un po' di suspense in questi casi può essere credo appropriata per far aumentare un po' con la curiosità grazie per questa occasione all'organizzazione agli organizzatori e grazie a Loris Vezzali per il lavoro che fa quotidianamente e per aver accettato e accolto l'invito a condividere le iniziative di cui è promotore a lui la parola grazie no no anzitutto sono io che ringrazio Thomas e in primis e insomma gli organizzatori del festival per avermi chiamato e darmi la possibilità di portare un po' in giro quello che stiamo facendo quindi come anticipato da Thomas porterò una serie abbastanza ampia di esperienze per dare l'idea del messaggio che ci sta dietro come detto anzitutto è molto importante per noi la parola che ha detto Thomas terza missione ora è stata aggiunta questa missione a quella della didattica della ricerca all'università e quindi è una cosa che in un certo senso va fatta c'è differenza però tra il va fatta e la vogliamo fare perché ci teniamo questo è particolarmente vero nel mio caso io sono uno psicologo sociale mi occupo di inclusione abbiamo un buon gruppo di ricerca e da un punto di vista della ricerca insomma otteniamo dei buoni risultati sulla riduzione del pregiudizio l'inclusione sociale il punto è che sono risultati che in qualche modo perché è così perché la comunità accademica è questa deve essere così si rivolgono a un pubblico specializzato allora se studi argomenti tanto socialmente rilevanti e in qualche modo non riesci a portarli fuori poi alla fine dov'è il senso allora diciamo che noi cerchiamo di andare a cercarci questo senso quindi da un lato abbiamo esperienze di ricerca stretta ricerca in senso puro possiamo anche farla nei contesti però alla fine sempre ricerca è per dire io posso anche andare a fare un intervento in una scuola posso caratterizzare nel senso scientifico ma alla fine mi tocca 200-300 bambini quindi l'impatto c'è ma è limitato altra cosa sarebbe cercare di costruire reti per influenzare davvero territori che penso sia molto nell'ottica dell'università se c'è un'esperienza di ricerca alla base che può essere utile a un territorio più o meno allargato forse visto anche che l'università è pubblica è un dovere quantomeno cercare di portarla in giro e noi ci crediamo e questo stiamo provando a fare il problema diciamo della psicologia sociale e di quel che faccio io è che tocca un sacco di cose e quindi noi dobbiamo dividerci tra un sacco di cose perché più o meno la psicologia sociale si rivolge più o meno a tutto e allora diciamo che tra questi progetti reti che portiamo avanti ce ne sono ventagli abbastanza ampio dal contrastare la radicalizzazione intesa come azioni antisociali contrastare le baby gang contrastare la violenza di genere che è un altro tema ancora agire sul bullismo promuovendo una risposta forte sul bullismo sto pensando mentre ve lo dico ai vari progetti che toccano tutte queste tematiche su ognuno di questi abbiamo dei progetti attivi in questo momento al promuovere l'uguaglianza di genere a livello istituzionale ad esempio nelle associazioni sportive contrastare in maniera efficace l'abbandono scolastico in modo possibilmente da andare a accogliere percentuali significative di abbandono scolastico e nei contesti dove c'è più bisogno più altri che adesso verranno in mente parlando ora su questa costruzione di reti quindi il punto per noi difficile quella è la cosa difficile più che fare il progetto in sé il progetto in sé lo fai il punto è riuscire ad arrivare a costruire la rete che ti permette poi di avere influenza sulla gente effettivamente ecco uno di questi per esempio e noi siamo veramente molto felici di questa opportunità che ci ha dato la città di Reggio Emilia è un lavoro con la prefettura ora sentiamo sempre più parlare del disagio giovanile delle baby gang che è diventata una parola molto nota e la prefettura ha voluto formare un tavolo a Reggio Emilia quindi già non è scontato che una città riconosca esplicitamente che c'è un problema a quel livello perché ovviamente se tu vuoi contrastarlo prima devi formalmente riconoscerlo e ha avviato un primo tentativo un primo tentativo dove ha messo varie persone al tavolo persone delle istituzioni quindi parliamo della questura parliamo le principali istituzioni cittadine il comune con gli assessorati rilevanti l'ASL il provveditorato quindi questi erano un po' la provincia erano un po' gli attori principali di tutte le forze di polizia per diciamo una prima chiacchierata a confronto e e questo siamo stati tanto felici che l'università è stata chiamata a questo tavolo e ancora più felici che in qualche modo non si è risolta solo in un partecipate perché partecipare è bello ma si è riconosciuta in qualche modo la funzione che l'università poteva effettivamente avere anche nel coordinamento di azioni allora da lì è partito diciamo prima qualche azione così isolata poi alla fine nel giro di un annetto si è consolidato quest'anno inizio anno abbiamo firmato un vero tavolo formale istituzionale per il contrasto al disagio giovanile con un focus specifico sulle baby gang che include praticamente tutte le forze di polizia del territorio le scuole il comune e così via perché è stato importante una formalizzazione al di là del fatto che c'è una convenzione bella di per sé è stato importante perché quello che succede ad esempio nell'ambito del disagio sociale giovanile è che più o meno chi è che se ne occupa degli attori che ho detto prima tutti solo che lo fanno in maniera diversa la politica fa il suo mestiere il comune fa il suo mestiere l'asso ha il suo mestiere e sono tutti interventi scordinati fra l'altro su chi sono questi interventi perché uno dice sui ragazzini che stiamo parlando di disagio giovanile danno in qualche modo dei problemi ma andando nello specifico li conosciamo questi ragazzini sì e no perché su questo per intervenire come in questo progetto e nell'attenzione che riservate ai ragazzini e le ragazzine incidono le tecnologie che uso viene fatto delle tecnologie dai soggetti che state cominciando a mettere a fuoco nella vostra attività perché questo penso sia un punto quando si parla di baby gang l'utilizzo di video che propongono immagini di violenza discorsi d'odio forme di discriminazione basate diciamo sull'origine hanno come dire un potenziale molto forte che non è un come dire riconducibile ad una esclusione dalla rete vedremo dopo alcune di queste forme ma c'è un uso della rete delle tecnologie dei dispositivi digitali distorto non appropriato o addirittura cattivo quando discutiamo di questi temi con alcuni colleghi e colleghe abbiamo introdotto questa espressione a nostro avviso pertinente di lama la rete può essere una lama può ferire può portare come dire a casi di contrasto di conflitto di scontro ma anche alle forme più estreme di violenza può incitare all'odio e questo anche nel caso delle cosiddette baby gang che è un'espressione che personalmente non condivido perché rischia di semplificare un po' le questioni però ormai è quella in uso e la mettiamo tra virgolette e ne discutiamo se vuoi condividere un po' quella che è la vostra la tua lettura di questo aspetto perché questo è un aspetto nuovo ci sono sempre stati gli scontri tra bande giovanili la violenza come risposta al disagio all'esclusione a forme di povertà estrema che generano una reazione violenta come le tecnologie si inseriscono in queste dinamiche è un fenomeno che abbiamo scoperto piuttosto di recente no no assolutamente è un aspetto assolutamente centrale ora ricollegandomi a quel che dicevo diciamo che la formalizzazione ha consentito diciamo di mettere a sistema le attività quindi ad esempio l'attività che la polizia fa sul controllo delle chat e di tutto rientra in questo cosa ha consentito alla fine faccio faccio per sommi capi a identificare un gruppo preciso di persone sono quei 40 50 che erano diversi tra i vari autori sono stati definiti quindi di base adesso e con le tecnologie e l'analisi della rete e il fatto di avere in qualche modo creato il tavolo vuol dire che tutti possiamo in qualche modo a quel tavolo avere accesso non magari a tutte le informazioni ma un insieme di informazioni ci ha permesso di creare delle mappe che diventano anche digitali che vanno tra le istituzioni nel senso che poi sono ogni istituzione gestisce quello che è più di sua competenza ma identificare un gruppo di persone che in qualche modo sono coinvolte e di andare nel dettaglio a capire ognuna di queste chi sono queste persone e cosa fanno ad esempio nell'accesso alla rete nei luoghi di ritrovo nei gruppi a cui partecipano perché con questa analisi anche digitale puoi capire per dire se un ragazzo è in un gruppo è in due gruppi in qualche modo è coinvolto quindi di base uno vai a definire il campione di intervento e vai a definire esattamente come perché te lo vai a conoscere nel dettaglio e l'aspetto della rete in tutto questo è centrale uno per l'analisi che la polizia fa su queste chat che è molto efficace e consente di mantenere aggiornata diciamo la mappa del chiamiamolo così del disagio due perché come giustamente diceva Thomas la faccenda è cambiata le baby gang che è un termine inappropriato perché in realtà sarebbe definirebbe un gruppo formalizzato e questi non sono gruppi formalizzati almeno ci ha aiutato nell'uso rosso del termine a delimitare un problema per le istituzioni generale mentre una volta diciamo questi gruppi entravano in contrasto insomma tutti noi abbiamo più o meno esperienza adesso invece il punto centrale è la rete andiamo verso un insieme di persone e qua torna il digitale a più livelli che sono persone che vengono per la nostra analisi nel dettaglio da famiglie problematiche da contesti svantaggiati sono dei ragazzi che o non vanno a scuola non credono in sé non pensano ad avere un futuro e gli è sempre stato detto così dagli adulti rilevanti sia delle istituzioni dove sono stati sia da parte dei loro genitori quindi il punto non è andare a curare il sintomo solo cioè l'aspetto della legalità ma in qualche modo dargli un futuro un futuro a cui prima di tutto loro devono credere quindi questo è un po' il gioco e cosa c'entrano i social cercano di prendersi la rivincita in qualche modo mentre prima la violenza era in qualche modo l'esito di un conflitto adesso è il punto di partenza questi non si vedono un futuro non si vedono domani quindi in qualche modo cercano un qualche modo di distinzione e di distinzione positiva la violenza non è più diciamo la conseguenza è la cosa da esibire è la cosa che ti dà identità queste culture giovanili che stanno venendo fuori identificano la violenza come il loro tratto distintivo una volta per dire tu fai una rapina l'ultima cosa che vuoi fare è andare a farti vedere questi la mettono in rete è la prima cosa che fanno vanno a fare la rapina per metterla in rete e farsi dare i like e uno dice saranno matti perché nel senso si scoprono ma allora andiamo a vedere i like andiamo a vedere il supporto e ai ragazzi questa cosa piace quindi alla fine il vero problema è che questa cosa è condivisa da un'ampia parte dei giovani loro cercano un riscontro sociale nei social e lo trovano io ho avuto un caso sarà qualche giorno di uno di questi ragazzi in una scuola arrivati in una scuola in una classe delle superiori e sono venuto a sapere che è l'idolo diciamo della classe per questi trascorsi e questa visibilità sui social negativa diremmo noi il problema è che loro direbbero positiva questa è un po' la chiave e allora questo è un po' un ruolo dei social del digitale nel creare questi gruppi nel senso che diventa non l'aspetto di lato ma diventa l'aspetto centrale della loro visibilità e del loro tra virgolette riscatto noi stiamo usando il digitale in tutte queste azioni anche su questo siamo un'università lavoriamo molto sull'aspetto formativo ad esempio sui corsi allora ci siamo detti lavoriamo sui docenti e andiamo a costruire dei percorsi di formazione che in qualche modo vadano a andare a toccare gli aspetti che ho detto uno l'aspetto della legalità e della giustizia ovvio stiamo parlando di di queste tematiche ma due anche una costruzione un percorso che vada più in là dal credere in sé a riconoscere se hai dei talenti cosa puoi fare insomma dagli una prospettiva in modo che questi ragazzi capiscano che possono far qualcosa perché al momento non ci credono e in qualche modo la mettano in pratica e quindi abbiamo ragionato qual è il vantaggio che ci può dare il digitale se noi portiamo questi corsi di formazione in giro in maniera classica quanti insegnanti ci possono venire? Una manciata in un certo senso se noi facciamo un corso di formazione che sia però con alcune caratteristiche digitali che vadano a renderlo forte forse abbiamo una diffusione più ampia quindi noi per esempio abbiamo identificato 8, 9, 10 di questi moduli pensati specificamente per insegnanti in modo da essere fruibili quindi poca teoria ogni modulo che può essere fruito singolarmente prende massimo mezz'ora e di base ti dice in classe come che strumenti usare e come affrontare il laboratorio in questo modo anche con questa rete che è stato convocato un incontro dal provveditore con tutte le classi della città ci sono incontri regolari vengono portati in giro noi ci facciamo carico più o meno dei vari piani di sviluppo di adesso 7, 8, 9 scuole all'interno della città per collocare le varie attività di contrasto al disagio giovanile pian piano si sta diffondendo l'uso tra gli insegnanti in questo modo c'è la possibilità di espandere su grandi numeri perché il corso ovviamente online è gratis su piattaforma Unimore basta loggarsi e in realtà visto che la prefettura e la questura sono molto interessate a questo aspetto del digitale andiamo avanti su quello qual è un'altra problematica legata a questo e devo uscire adesso ufficialmente il corso a giorni diciamo è pronto stanno visionando un altro problema che hanno detto che si collega a questo sono le dipendenze dipendenze che possono essere di vario tipo che incidono su questi fenomeni da alcol da droga da tutto qual è il problema delle dipendenze di questi giovani per diciamo per gli adulti sempre all'interno del tavolo venuta fuori da sindaci e da esponenti del territorio uno io come lo capisco che è ragazza dipendenza quindi al di là di fare dei discorsi teorici che belli però cerchiamo di andare sul problema uno come lo capisco che c'è un problema di dipendenza due siamo anche lo capisco poi cosa faccio quindi è stato fatto un corso di formazione dove si sono identificati con un grande contributo di un imore ad esempio c'è un contributo del professor Galeazzi che è l'ordinario di psichiatria della professoressa Scorza che è una psicologa clinica da persone del territorio di centri di dipendenza e tutto anche qui abbiamo creato dieci moduli più o meno sulla struttura di prima ogni modulo che vada dura mezz'oretta vada esattamente a rispondere a queste due domande e per tre target diversi che sono gli insegnanti i genitori era quello che c'aveva anche a questi sindaci esponenti e le forze di polizia per ognuno di loro può essere diverso come riconosci il problema e come lo affronti questo corso va a specificare su questi moduli in ogni modulo la risposta a queste due domande risolverà la questione? no però sicuramente da un armi in più infatti adesso si ragionava con la prefettura come portarlo in giro in senso digitale cioè Reggio ha fatto e Unimore ha fatto questo corso ora alla gente come ce lo facciamo avere e sarà un misto sarà un misto di fare anche incontri in presenza laboratoriali per in qualche modo stimolare la partecipazione questo soprattutto nel caso dei genitori perché le forze di polizia avendo diciamo i capi che possono essere interessati li diventa più facile la gestione e la diffusione grazie Loris ascoltandoti stavo pensando in maniera anche appunto molto aperta e pensando al nostro vivere quotidiano come questa impostazione oltre a diciamo segnalare la funzione sociale delle tecnologie ci porti anche a ragionare in forma diversa della formazione dell'apprendimento hai citato insegnanti genitori forze di polizia beh fino a qualche tempo fa non ci saremmo mai posti un problema di formazione cioè l'insegnante la formazione in qualche modo l'acquisita i genitori in qualche modo devono saper fare tra virgolette il loro mestiere le forze di polizia sono state preparate per contrastare e invece no le cose che stai dicendo ci presentano quello che peraltro gli atti e come dire gli indirizzi su scala europea ma anche su scala nazionale su scala d'Ateneo hanno diciamo portato a sottolineare questa idea della formazione continuativa permanente laboratoriale su nuove sfide credo che questo sia come dire un aspetto interessante e forse è questo il modo per contrastare le forme di esclusione le forme di disagio le forme di divario intendendolo come dire non soltanto come accesso alla rete ma come uso della rete uso consapevole della rete nel dibattito sui divari digitali all'inizio si poneva soltanto diciamo la questione tecnologica la questione tecnica che peraltro resta accedere o non accedere avere come dire i dispositivi per poter entrare in un mondo ma le cose che tu hai detto presentano un profilo diverso e anche molto più complesso perché non c'è solo il problema dell'accesso ma c'è il problema dell'uso tant'è che nei corsi di formazione che facciamo e che stiamo sempre più sviluppando con le scuole quando ragioniamo di digitale di che cosa ragioniamo di uso consapevole della rete di educazione alla cittadinanza digitale che riguarda i ragazzi le ragazze ma riguarda anche gli insegnanti riguarda le famiglie c'è un problema diciamo non si usa più questa espressione però che è un problema tipicamente pedagogico ma dirlo a te credo come dire faccia un po' c'è un problema pedagogico di costruzione e di formazione ad una cittadinanza che ha bisogno di altri codici perché è una cittadinanza di tipo digitale e questo ci dicono gli altri di indirizzo proprio sul tema del contrasto ai divari digitali alla povertà educativa e a tutto quello che è il mondo della formazione oggi ripensandoci insomma è un mondo nuovo o sto dicendo cose inappropriate no no al contrario anzi ti ringrazio perché mi permette anche di espandere il discorso perché lo stiamo portando anche soprattutto in realtà ho raccontato un'esperienza locale ma questo discorso per noi è soprattutto in chiave europea mi permette di andare molto oltre perché come ho detto all'inizio il mio problema è di arrivare alla gente e ultimamente per dire beneficiari sono i ragazzi però il fatto che i ragazzi in qualche modo seguono quello che fa l'università a livello di corsi di formazione o intervento diretto è improbabile e non sarebbe forse neanche pienamente giusto ci sono delle figure deputate delle figure però che a vario titolo non possono avere competenze specifiche possiamo avere competenze specifiche su tutto dove c'è un problema che l'università in qualche modo provi a intervenire per andare a fornire queste competenze anche creando motivazione e qua andiamo a tutto quello che stiamo facendo a livello europeo io mi concentro su una fetta dei progetti che abbiamo che sono quelli più insomma interessanti su queste tematiche ora noi abbiamo avuto la fortuna di e così riesco a chiudere la domanda abbiamo avuto la fortuna di stabilire un ottimo rapporto con l'UEFA che non so se tutti l'han presente è una associazione europea che coinvolge le federazioni di calcio nazionali europee in realtà un po' di più perché sono 55 federazioni di calcio nazionali la UEFA per motivi etici e magari uno dice la UEFA è una grandissima organizzazione monetaria fa miliardi in realtà io parlando con le persone ci sono i dipartimenti c'è veramente un interesse fortissimo a rendere il calcio utile e allora insieme abbiamo avuto la possibilità di strutturare una risposta sulle tematiche sociali in termini di progettualità europea dunque di base cosa fa Unimore insieme si decidono le tematiche da affrontare che sono quelle che ho detto prima le federazioni da coinvolgere Unimore finora ha guidato non che ha solo partecipato ha guidato in questi progetti 18 federazioni di calcio nazionali includendo grosse federazioni dalla Romania alla Francia no alla Francia no scusate alla Spagna al Portogallo all'Irlanda più altre sono 18 e andando a affrontare questi temi dove e qua vengo pienamente noi vogliamo arrivare non solo ai ragazzi ma anche ai ragazzi fuori dal campo ai ragazzi e alle persone più in generale fuori dal campo come ci si arriva per forza con le tecnologie in altro modo non ci possiamo arrivare in nessun modo come l'università ragioni in questo modo anche in senso di formazione ora qual è per noi la figura che può arrivare ai ragazzi no è l'allenatore che in questo modo e abbiamo attenzione abbiamo avuto anche delle resistenze in tal senso in qualche modo diventa la nostra figura di collegamento l'allenatore di una squadra di calcio cosa fa? allena i ragazzi i ragazzi possono fidarsi entrare in comunione con l'allenatore sì certo sono gli allenatori più empatici quelli meno quelli più d'aiuto ma se le federazioni formalmente formano l'allenatore apposta per affrontare certe dinamiche tipo il bullismo tipo la violenza di genere allora cambia la funzione formale dell'allenatore che diventa una vera figura di collegamento diventa un vero educatore che volta al suo ruolo la resistenza ad esempio da alcuni psicologi che dicevano mestiere dello psicologo ma noi non rubiamo sono psicologo anche io non rubiamo il mestiere dei psicologi il punto è dare delle armi per in qualche modo connettere vi faccio un esempio adesso abbiamo un progetto tra i vari sul contrasto alla violenza femminile una cosa che non ho detto è importante per capire questi progetti a noi non interessa quel che avviene sul campo ci sono delle problematiche sociali tipo la violenza contro le femmine noi vogliamo nella società fuori noi vogliamo che il calcio aiuti fuori non sul campo sul campo è ovvio vorrei anche vedere il punto è andare a aiutar fuori quindi per dire in questo progetto le ragazze giocatrici che giocano a calcio vengono in qualche modo tramite l'allenatore portate formate uno a riconoscere quando c'è violenza di genere perché il problema grosso è che molto spesso non ne sono consapevoli due ora che lo so come affronta il problema da un punto di vista di supporto psicologico perché non può farlo l'allenatore e da un punto di vista formale legale quindi si tratta di vedete portare il calcio come aiuto alla società in generale quindi in questo modo da un punto di vista digitale uno faremo focalizziamo sulla figura dell'allenatore creando dei corsi di formazione che in qualche modo trasformino la sua figura ma il punto importante nostro difficile da fare è che non devi solo andare a formare una persona perché poi tu puoi anche fare il corso ma il problema pratico qual è? ci vuole qualcuno che se lo guardi e qua rientra l'attività di rete tipo nel caso di prima se non ci fossero prefettura questura e comune che in qualche modo spingono all'adozione del corso nelle scuole è un bel da fare il corso ci deve arrivare e anche qui c'è un lavoro di rete importantissimo nel caso del calcio si agisce a più livelli uno c'è un sostegno istituzionale della UF delle federazioni di calcio per fare questi corsi perché rientrano all'interno di questi progetti che hanno anche le federazioni di calcio due come vengono diffusi questi corsi uno adesso cominciamo adesso in realtà a diffonderlo anche in questa maniera tramite i canali social delle federazioni quindi a un livello di disseminazione per la gente due a un livello istituzionale formale sono le federazioni noi pretendiamo come un imore che in qualche modo se noi facciamo all'interno di un progetto approvato dall'Unione Europea una formazione per un allenatore digitale secondo le dinamiche che abbiamo detto prima le federazioni si impegnano a renderla obbligatoria o semi-obbligatoria nei programmi dei patentini diciamo che gli allenatori devono prendere nei vari paesi perché in questo modo tu prendi una federazione di calcio nazionale a immediato effetto su migliaia di allenatori e di rimando su decine di migliaia di ragazzi questo per noi è un impatto che quindi viene da aver trasformato una figura che è quella dell'allenatore in senso diverso e in qualche modo trovare le chiavi per formarla e due fare in modo che in effetti si vada a fare i corsi e li rende in qualche modo fruibili e per dire una prova che stiamo facendo adesso in un corso in un progetto dove c'è anche la nostra FIGC è stata sempre in chiave digitale sfruttare un'app avevamo fatto un primo progetto con un corso contro la radicalizzazione dei giovani dove con un corso online in qualche modo formavamo gli allenatori gli dicevamo le attività da fare quindi attività psicologiche sul campo vi ricordate prima abbiamo parlato dei laboratori nelle scuole l'esigenza di crescere come ragazzi e tutto nelle proprie credenze le stesse cose solo che in questo caso le abbiamo fatte con attività psicologiche sul campo gliele facciamo non in classe a lezione ma facendoli giocare ovviamente con qualche trucchetto psicologico e con la FIGC si è visto che per interessare di più gli allenatori perché è vero che li puoi anche dire però se li interessa di più tanto meglio abbiamo creato un'app che in qualche modo penso sia l'app che usano per la nazionale adattata gli allenatori e da un lato si è messo un percorso di strutturazione dell'allenamento secondo caratteristiche degli alti livelli della FIGC perché così anche allenatori di squadra amatoriale e tutto sono motivati ad usare un'app che in qualche modo viene usata anche dalla nazionale due all'interno di questo gli si è data la possibilità di strutturare il proprio percorso su quello che dicevamo prima sulla crescita personale del ragazzo su più aree non vi annoio su queste così che tramite l'app gli allenatori possono strutturare il percorso monitorare in ogni momento stiamo adesso studiando come stendere una fruizione dell'app anche ai ragazzi perché in questo modo anche il loro coinvolgimento vi è infacilitato quindi c'è una penetrazione sempre più forte avete capito del digitale con l'obiettivo di arrivare su numeri che sono sempre più grandi e possiamo arrivare solo in maniera digitale in modalità mista l'ultima modalità è quella che discutevamo prima di in qualche modo andare a portare queste tematiche tramite i social di importanti associazioni come sono appunto federazioni di calcio che hanno milioni di follower e portare i nostri messaggi tramite appunto questi contenuti però è una modalità diversa prima perché mentre sono due modalità che devono essere complementari tramite social messaggi una strategia che è necessariamente comunicativa creiamo consapevolezza motivazione e voglia tramite una diffusione invece di contenuti digitali che sono formativi andiamo in qualche modo a chiudere il cerchio e provare a fornire le competenze questo è nei nostri sogni ci stiamo provando e più o meno stiamo andando avanti e maturando esperienza mi pare davvero che questo lavoro sul campo è il caso di dirlo sia straordinariamente promettente anche perché ascoltandoti immaginavo appunto il potenziale a partire dallo sport che nel nostro paese è quello più diffuso ma se le buone pratiche funzionano poi la loro possibilità di essere stesa ad altri ambiti può diventare qualcosa di molto concreto e allora da questo sport che è quello più praticato ma assolutamente non l'unico si potrebbe allargare ad altri sport ad altre realtà e questa è una dimensione fondamentale delle nuove generazioni ma non solo delle nuove generazioni di tutti noi cioè la pervasività della pratica sportiva letta in questa chiave mi pare davvero davvero molto interessante è anche come dire una dimostrazione di come non esista più quella distinzione tra la dimensione virtuale le tecnologie e l'attività di vita reale come si diceva un tempo a partire dalle intuizioni di Rodottano viviamo in una mixed reality in una realtà che è sempre mista e allora attraverso le tecnologie possiamo fare cose straordinarie ma anche a partire dal campo e attraverso l'uso della rete possiamo generare percorsi progetti di formazione che poi mutano i comportamenti perché tutte le cose che tu dicevi ma l'esempio della violenza maschile contro le donne era molto concreto hanno un impatto appunto formativo nel ridurre nel contrastare le pratiche di violenza di odio di sopraffazione e discriminazione si porta a farti una chiosa di un minuto proprio perché hai colto il punto perfettamente io adesso ho parlato di squadra di calcio ma sempre questi stessi progetti i medesimi sono stati usati per allargare il campo diciamo quindi si sono formate figure in Irlanda operatori di strada è stato fatto con i ragazzi di strada in Lituania federazione lituana con i gestori di orfanotrofi e da noi stiamo adattando con le scuole di Reggio quelle di cui parlavo prima interessate anche tramite l'app per trasformare queste attività che si porteranno nelle scuole di Reggio nel nostro piccolo insomma allargandole a tutte le sport perché poi il percorso calcistico è facile da allargare agli altri sport è simbolico grazie grazie perché il nostro intento era appunto non tanto di scettare di funzione sociale delle tecnologie di pratiche di interazione fornire delle definizioni cioè utilizzare diciamo anche le ottime cose che si fanno a livello accademico ma presentare delle azioni dei progetti delle attività che concretamente evidenziano questi profili che ci stanno a cuore l'ottica della terza missione è con noi anche il nostro prorettore il professor Gianluca Marchi che insieme al professor Verzellesi segue l'attività di terza missione dell'università e quando parliamo di questi temi sentiamo sempre il bisogno di rendere concreta questa funzione non tanto di spiegarla accademicamente ma di farla vivere e farla vivere nei luoghi che non sono o meglio di farla vivere anche nei luoghi che non sono luoghi istituzionali del sapere abbiamo parlato della pratica sportiva potremmo parlare dell'immaginario sociale costruito dal sistema dei media potremmo come dire aggiungere vari livelli che però implicano un bisogno di formazione e di costruzione della cittadinanza digitale speriamo di aver come dire fornito almeno con questa rassegna ringrazio Loris diversi esempi di buone pratiche che possono essere non solo messi in atto a partire dal nostro territorio si citava Reggio Emilia Modena ma appunto riprese comparate perché ci sono altri casi ovviamente altre iniziative su scala nazionale e su scala europea questa conversazione però come dire vuole mettere a fuoco non soltanto questo aspetto ma anche propriamente il tema dei divari questo sarà l'unico passaggio di natura come dire strettamente accademica se me lo consentite perché credo sia importante condividere e qui ovviamente c'è una letteratura estesa quali sono le diverse forme di divari noi parliamo di divari al plurale lo dicevo prima e per introdurre diciamo la seconda parte della conversazione e l'intervento di Claudia Canali diciamo sintetizzo un poco quali sono i profili d'analisi dei divari digitali allora ce n'è uno ormai strutturato che in parte è emerso ma che merita forse qualche approfondimento che è una strutturazione dei divari a partire diciamo dagli ambiti qui lo sguardo è quello sociologico comunque della psicologia sociale con un'attenzione anche all'economia al diritto alle istituzioni e quando parliamo di divari non dobbiamo mai dimenticare che c'è uno straordinario divario di tipo globale di tipo geografico le cose sono un po' mutate ma non di molto ricordo quando ho iniziato a studiare queste tematiche quali era più o meno il numero delle connessioni della città di Manhattan e quali erano all'epoca diciamo primi anni 2000 il numero delle connessioni del continente africano erano più quelle di Manhattan le cose sono un po' cambiate ma se pensiamo a tutte le questioni connesse alla banda larga alla velocità all'utilizzo alla possibilità di avere concretamente la disponibilità di un dispositivo questo problema è centralmente aperto non è questione diciamo al centro della nostra riflessione oggi però uno sguardo sul mondo e uno sguardo sul mondo a partire dai divari digitali è sempre straordinariamente utile soprattutto nell'epoca in cui celebriamo la forza dell'interconnessione e dell'interazione attraverso le tecnologie un secondo profilo è il divario cosiddetto socioculturale qui interessante per esempio andare a vedere quali sono gli indici di digitalizzazione del settore economico sociale la commissione europea da anni propone questi materiali e qui ci sono dei parametri interessanti c'è il tema della connettività c'è questo richiamo ad un'espressione che a me non piace molto che è quella di capitale umano che comunque è come dire parte della nostra letteratura insomma il livello di digitalizzazione di interazione è nell'ambito del lavoro nell'ambito delle imprese e tutto quello che comporta questa dimensione dei servizi pubblici l'accesso ai servizi pubblici attraverso le tecnologie l'amministrazione digitale insomma questo secondo profilo un terzo è il cosiddetto divario partecipativo cioè la possibilità di partecipare concretamente anche a progetti come quelli che abbiamo illustrato a mio avviso giustamente il professor Vezzali sottolineava questa funzione del pubblico del pubblico che svolge come dire una concreta funzione che abbatte peraltro il divario perché se alcune attività passano dalla infrastruttura messa a disposizione del pubblico questo può fare la differenza quando parlo di pubblico non parlo solo di stato si diceva il comune l'amministrazione locale le forze dell'ordine e una strutturazione di un'organizzazione si parlava della della UEFA o si parlava delle organizzazioni come dire preposte ad un coordinamento istituzionale delle attività sportive mi sembra un profilo interessante e qui il divario partecipativo può essere contrastato attraverso un'interazione tra pubblico e ovviamente soggetti di varia natura e anche soggetti privati ma c'è dal mio punto di vista una primazia del pubblico nel fornire una istruttoria e poi una infrastruttura di contrasto al divario digitale forse se ne parla troppo poco di queste questioni ieri la vicepresidente dell'organo di garanzia sulla privacy che è stata ospite appunto di queste importanti manifestazioni sottolineava a mio avviso opportunamente come queste tematiche non siano affatto state al centro del recente confronto elettorale che è sempre un confronto importante per misurare come dire la centralità di alcuni temi al di là delle diverse risposte andate a fare un'indagine dei programmi presentati alle varie forze politiche qualche cenno ma assolutamente non una centralità del tema che invece come dire ha un rilievo a tutti i livelli il fatto che lo abbia detto una rappresentante autorevole di un organo di garanzia in maniera molto equilibrata penso che come dire ci aiuti a ahimè a vedere il problema ma potremmo proseguire non c'è più un ministero o meglio quando c'era poi non era un ministero unico dedicato a queste questioni cioè sono tutti segnali di come le istituzioni soprattutto le istituzioni nazionali fatichino anche a individuare la centralità di questi temi e non vedere il problema significa non che il problema non esiste ma che non è adeguatamente affrontato e con i divari questo ovviamente è particolarmente problematico un quarto punto che richiamavo anche in uno degli interventi fatto in precedenza beh è il divario appunto infrastrutturale quello tecnico tecnologico e qui si aprirebbero tutta una serie di riflessioni questa diciamo quadripartizione dei divari è utile è importante aiuta a profilare alcune analisi alcune possibili strategie però ad essa può essere diciamo associata un'altra casistica o se volete un'altra tipologia aperta che è quella che come dire introduce le comunicazioni che vedremo a breve perché mette a tema i vari soggetti o gruppi di soggetti che possono essere come dire a rischio di esclusione dalla rete o per come emerso dal nostro confronto a rischio per un uso improprio per un uso non consapevole per un uso violento della rete abbiamo parlato dei ragazzi e delle ragazze dei bambini e delle bambine visto che sempre più l'uso delle tecnologie riguarda un'età sempre inferiore non è oggetto di questa nostra conversazione ma a me colpisce sempre come in Emilia Romagna nella nostra regione il fenomeno dei cosiddetti occhicomori cioè dei bambini degli adolescenti che si rinchiudono nella propria stanza e convivono in maniera continuativa con la rete con i dispositivi non riguarda più ahimè poche unità ma riguarda numeri crescenti e questo è un fenomeno appunto che dobbiamo inquadrare attraverso l'esclusione perché è l'esclusione dalla vita come dire di relazione ed è un'inclusione patologica nel mondo della rete il fenomeno lo conoscete e implica un uso persistente pervasivo per 10 12 13 ore dei dispositivi chiusi nella propria stanza ci sono ormai studi e azioni di contrasto che vanno in questa direzione insomma quindi il problema dell'inclusione dell'esclusione muta anche se prendiamo in esame la concretezza delle problematicità un altro versante che riguarda l'inclusione digitale se ne parlava ieri sera la notte europea della ricerca riguarda le persone migranti ma non solo riguarda le persone le persone anziane che rischiano di essere come dire marginalizzate o escluse dall'uso della rete potremmo proseguire però il caso diciamo che affrontiamo attraverso appunto la presentazione di un progetto è anche l'esclusione il rischio di esclusione la marginalità un difficile accesso e un difficile utilizzo della rete delle potenzialità della rete da parte delle soggettività femminili da parte delle ragazze il divario digitale di genere è forse quello sul quale l'Unione Europea ha più lavorato in questi anni in termini diciamo di inquadramento e anche di indicazione di strategie ci sono ormai una serie di risoluzioni di indicazioni di diciamo politiche che sono messe in atto dalle istituzioni a livello europeo a livello nazionale e anche da qualche tempo del mondo del mondo accademico noi abbiamo approvato in tempi recenti un piano appunto di di azione che mette a tema il contrasto delle discriminazioni di genere e c'è un'attenzione anche a questi aspetti ora però per mostrare concretamente che cosa si può fare su questi temi cioè per abbattere uno dei divari un divario significativo non l'unico ma significativo che appunto il divario digitale di genere vi presentiamo un progetto che è nato diciamo dall'intuizione di un collega il professor Michele Colaianni che peraltro è stato uno dei fondatori del CRID che menzionavo prima con lui abbiamo cominciato alcuni ragionamenti ora il nostro collega lavora ma noi siamo per la cooperazione tra atenei e non tanto per la competitività presso un altro ateneo ma questo progetto prosegue grazie a Claudia Canalia la professoressa Canalia appunto che lavora al dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari ma anche presso il nostro corso di studi di ingegneria a Mantova e Ragazzi Digitali è un summer camp che mira ad abbattere il divario digitale di genere con metodologie innovative che ora verranno presentate la cosa che mi fa piacere condividere che ci fa piacere condividere come ateneo è che questa esperienza partita da Unimore partita da Modena da ingegneria appunto si è via via allargata si è allargata prima in Romagna nell'ambito diciamo delle attività dei corsi di studio in ingegneria della Romagna l'Università di Bologna nella sede di Cesena e poi però anche in altri atenei della regione e nel 2022 questo progetto è diventato un progetto regionale con il sostegno della regione Emilia-Romagna quindi anche qui il ruolo delle istituzioni che rafforza alcune progettualità ascoltiamo Claudia Canali che non può essere con noi perché è impegnata in altre attività diciamo di tipo accademico e formativo il video è piuttosto breve ma crediamo renda bene diciamo l'idea e diciamo la sostanza di questo progetto salve a tutti sono Claudia Canali del Dipartimento di Ingegneria Enzo Ferrari dell'Università di Modena e Reggio Miglia mi spiace molto non potrei essere oggi lì con voi ma voglio ringraziare gli organizzatori per avermi permesso comunque di portare un contributo attraverso questo breve video oggi sono qui per parlarvi di ragazze digitali un progetto che mi sta molto a cuore e che seguo ormai da diverso tempo è un progetto ideato pensato e realizzato per ridurre quel divario di genere che vediamo ancora molto presente e molto importante nelle discipline legate all'informatica e alla computer science si tratta di un progetto di orientamento innovativo che cerca di avvicinare le ragazze al campo dell'informatica in un modo creativo divertente e accattivante è un progetto nato diversi anni fa nato nel 2013 da una collaborazione tra il dipartimento di ingegneria in Soferrari di cui faccio parte in particolare dal gruppo di ricercatori e docenti che facevano capo al professor Michele Pelleianni che da qualche anno è passato all'università di Bologna e un'associazione femminile del territorio o meglio il chapter locale di un'associazione che in realtà ha radici europee European Women's Management and Development e che mira proprio all'empowerment delle donne nell'ambito professionale ecco questo progetto ha incontrato da subito devo dire il supporto fondamentale di ente e istituzioni locali primi tra tutti la fondazione di Modena il comune di Modena e poi quello di Reggio Miglia quindi i comuni delle nostre città che hanno sostenuto il progetto e questo è stato molto importante per permetterci di offrire questa esperienza in modo gratuito alle ragazze che volevano partecipare si tratta fondamentalmente di un summer camp che si gioca tra giugno e luglio quindi alla fine delle scuole e che coinvolge in modo appunto gratuito le studentesse di terza e quarta delle scuole superiori di qualunque tipo di scuola superiore e le attività diciamo di formazione che vengono portate avanti durante questo summer camp vengono svolte con un approccio learn by doing imparare facendo quindi molto pratico e laboratoriale e un approccio di team working che permette alle ragazze anche di sviluppare quelle soft skill che accanto alle competenze più tecniche diciamo di natura informatica vengono molto richieste dal mondo delle aziende e ecco diciamo che per sua natura questo progetto possiamo dire diciamo che ho un po' di orgoglio e per sua natura intendo la lunga durata delle attività di formazione perché non l'ho ancora nominato ma si tratta di tre o quattro settimane a seconda dell'edizione dell'anno in cui si svolta l'edizione e la gratuità di questa esperienza che viene offerta alle ragazze ecco come vi dicevo per sua natura per queste caratteristiche è un'esperienza che possiamo definire unica senz'altro in Italia ma per quanto ci siamo guardati intorno abbiamo avuto modo di capire anche in Europa e nel mondo motivo probabilmente per cui questo progetto ha avuto importanti riconoscimenti soprattutto negli ultimi anni primo fra tutti grande riconoscimento importante per noi è stato quello di essere stati citati nel report della Commissione Europea Schifigius nell'anno 2021 proprio come un'esperienza unica in Italia volta a incoraggiare le ragazze verso lo studio e l'apprendimento delle discipline diciamo legate all'ICT oltre a questo a livello nazionale siamo stati tra i finalisti della prima edizione del premio nazionale per le competenze digitali di Repubblica Digitale che è l'iniziativa strategica promossa dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidente del Consiglio e oltre a questi riconoscimenti diciamo nell'ultimo anno quindi nel 2022 a partire proprio dall'edizione 2022 abbiamo avuto il supporto della Regione Emilia-Romagna che financia questo camp e che ci ha soprattutto consentito di estenderlo oltre alle nostre città di Modena e Reggio Emilia notate che a Modena il Summer Camp viene portato avanti dal 2014 quella fu la prima edizione dal 2018 eravamo riusciti ad estendere il Summer Camp anche a Reggio Emilia e alla città di Cesena coinvolgendo alcuni colleghi dell'Università di Bologna ecco dal 2022 l'estensione è stata molto più significativa perché ci ha permesso di coinvolgere gli Atenei di Bologna Parma e Ferrara e di espanderlo lo vedremo poi nell'ultima slide che ho preparato per oggi che racconta un po' l'evoluzione di questo progetto quindi di replicarlo in tante città quasi tutte dell'Emilia-Romagna e negli anni abbiamo all'attivo più di mille ragazze partecipanti che si sono formate attraverso questa iniziativa e vi ho riportato in questa slide anche il sito web cui potete fare una visita dove potete trovare le informazioni per le prossime edizioni quindi man mano che ci si avvicina all'edizione prossima le indicazioni poi per descrizione ma anche tutto lo storico del progetto quindi tutti diciamo le foto le passate edizioni con anche alcuni video o comunque racconti dei progetti che negli anni sono stati sviluppati dalle ragazze questa è la foto che mi piace sempre riportare della fine della prima edizione del 2014 Modena la prima classe di 35 30-35 ragazzi che arrivò alla fine del camp e che fu diciamo quella conferma guardando le loro facce divertite che il progetto stava funzionando che il progetto aveva un impatto positivo un gradimento alto nelle ragazze che è il nostro obiettivo più importante e cosa si fa per darvi un'idea un po' di cosa facciamo operativamente si fanno attività come dicevo prima divertenti creative una delle attività storiche sempre portate avanti durante il camp è la programmazione di videogiochi in python qui vedete le ragazze che lavorano e anche che presentano il videogioco fatto durante la giornata finale del camp che è una sorta di festa diciamo di chiusura dove ogni gruppo di ragazze presenta ha il proprio gioco e diciamo che parte della difficoltà e anche poi della soddisfazione che le ragazze si portano a casa il fatto che ogni gruppo dopo aver ricevuto le indicazioni dai docenti in aula ha libertà di creare il proprio gioco in modo abbastanza libero cioè ad ogni gruppo è in capo lo sviluppo completo del gioco quindi l'idea la storia la grafica la musica e ovviamente anche il codice del videogioco ecco questo ovviamente sotto il supporto dei docenti e un'altra programmazione tipica che affrontiamo con le ragazze a ragazze digitali è la programmazione di robottini basati su arduino robottini che possono essere macchinine o robottini antropomorti a seconda dell'edizione e quindi qui entra in ballo l'utilizzo anche dell'elettronica dei sensori oltre alla programmazione di codice fino alla personalizzazione fisica del robottino e dello scenario dove il robottino gioca e si muove e qui vedete appunto le immagini delle ragazze al lavoro questa è una slide che racconta un po' l'evoluzione in termini numerici che sono quelli che vedete sotto quindi dalle prime appunto 40 35-40 ragazze del 2014 fino all'edizione del 2019 che sulle tre sedi di Modena Reggio Cesena coinvolse 170 e oltre ragazze quelli che vedete poi accanto sotto gli anni delle varie edizioni sono i loghi che le ragazze proponevano in una sorta di contest creativo come logo dell'edizione di quell'anno poi votavano il logo preferito e quel logo veniva stampato sulle magliette che vengono date alla fine dell'edizione alle ragazze come ricordo le edizioni del 2020 e 2021 causa pandemia come tutti sappiamo sono state fatte il summer camp non si è fermato nonostante le difficoltà del momento ed è stato fatto completamente online per permettere comunque alle ragazze di proseguire questi sono i loghi che sono stati prodotti in quegli anni ci colpisce sempre molto diciamo il logo creato nel 2021 delle ragazze che vedete sotto in basso nel centro della figura che portava la dicitura il commento dell'autrice divise ma unite questo è un concerto che ci è sempre colpito parecchio ecco le attività diciamo delle edizioni online devo dire che ci hanno sorpreso positivamente per il gradimento delle ragazze noi pensavamo che le ragazze stanche della didattica online avrebbero avuto una reazione molto diversa in queste edizioni e invece devo dire la voglia comunque di lavorare in gruppo anche se separato dalla rete è stata tale che il gradimento è stato molto alto nel fare queste attività che ovviamente sono state un po' adattate al fatto di essere soltanto online e non in presenza fisica ma il gradimento devo dire ci ha sorpreso così come la partecipazione positivamente e veniamo alla fine diciamo all'ultima slide in cui abbiamo questa edizione 2022 come vi accennavo prima supportata dalla regione Emilia-Romagna e da diverse istituzioni pubbliche e private aziende che hanno fornito sponsorizzazioni di diverso tipo e ci ha permesso di fare sei edizioni in presenza in altre tante città dell'Emilia-Romagna quindi Modena-Reggio Emilia Bologna Parma Ferrara e Cisina in più una edizione in presenza fuori regione a Mantua dove l'Ateneo di Modena-Reggio Emilia ha attivo un corso di cui sono attualmente presidente di ingegneria informatica e quindi abbiamo colto diciamo l'occasione per coinvolgere anche lì enti pubblici e portare questo progetto in più abbiamo mantenuto due edizioni online una più laboratoriale quindi di progetti fatti in gruppo di progetti che implicavano diciamo nel sviluppo di codice e anche un'edizione invece seminariale dove avevamo esperti da tutta Italia esperti ed esperte che portavano la loro testimonianza su temi dell'informatica caldi come l'intelligenza artificiale la scuola di sinfarmatica oppure la loro testimonianza di donne che sono riuscite ad avere successo in un campo ancora ad affannaggio completamente maschile come la computer science e questa è la foto finale del summer camp nell'inizione di Reggio Emilia di ragazze digitali 2021 questa è un po' la storia del progetto spero di avervi un po' incuriosito che visitiate sui nostri siti web per saperne di più io non posso essere lì con voi a rispondere direttamente alle vostre domande ma vi lascio i miei riferimenti qui c'è anche la mia mail quindi se avete domande curiosità su questo summer camp su questo progetto vi invito a iscrivervi e grazie per l'attenzione abbiamo ascoltato anche la professoressa Canali insomma attraverso appunto le potenzialità delle tecnologie e anche in maniera molto sintetica abbiamo visto l'evoluzione di questo progetto e come questo progetto si sia esteso e come possa ulteriormente estendersi c'è una progressione una progressione come per i progetti che ci presentava Loris Vezzali che con il supporto e un allargamento della rete e il supporto anche delle istituzioni abbiamo visto anche in questi casi può consentire che alcune esperienze alcuni progetti sperimentali si estendano si consolidino si allarghino questa è ancora un'esperienza unica a livello nazionale ed europeo ma ovviamente come avviene per le buone pratiche speriamo che a breve non sia più l'unica ma altre riprendendo questa ispirazione si realizzino oltre a Claudia Canali ascoltiamo anche due brevissime testimonianze di due ragazze che hanno partecipato alle edizioni appunto del Summer Camp sono due brevissimi video che ulteriormente ci danno come dire ci restituiscono la concretezza di questo progetto che è un progetto appunto che mira ad abbattere il divario digitale di genere ciao ragazze mi è stato chiesto di raccontarvi la mia esperienza con ragazze digitali forse voi penserete che si decida di fare un corso di coding perché si è già appassionati all'informatica io invece ci sono arrivata per una pura casualità ero iscritta al quarto anno del liceo classico e mi è capitato di sentir parlare di un corso estivo per sole ragazze in curiosità mi sono iscritta e ho incominciato a seguire le lezioni e fare le prime esercitazioni sono entrata per la prima volta in un'aula universitaria e anche se era giugno le lezioni erano così divertenti che il tempo è volato gli insegnanti e i tutor sono stati molto bravi e davvero tanto pazienti quando poi abbiamo formato i piccoli gruppi per realizzare un proprio progetto di videogioco è stato bello poterci scambiare le idee e sperimentare con il codice la grafica e la creazione di minigiochi volete sapere in poche parole come è stata per me questa esperienza beh innanzitutto nuova rispetto alla scuola che frequentavo divertente perché ho fatto tante nuove amicizie e abbiamo realizzato il videogioco che vedete interessante tanto che ho deciso di studiare informatica all'università l'esperienza di ragazze digitali in realtà per me non è ancora finita infatti come tirocinio mi occuperò di sviluppare una piccola parte del nuovo portale di ragazze digitali se tra qualche anno vi diranno che l'informatica è solo per ragazzi che studiano materie scientifiche iscrivetevi a ragazze digitali e non perdetevi questa bellissima esperienza un primo contributo anche con un carattere diciamo promozionale ma se vogliamo rafforzare la funzione sociale e tecnologie dobbiamo fare anche buona promozione c'è un secondo contributo che ascoltiamo grazie a tutti 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 un po' l'atmosfera che si respira in questo summer camp che ci è stata raccontata con molta puntualità dalla professoressa Canali e anche da una delle tante partecipanti alle edizioni. Questa storia, questa narrazione, ma direi si collega molto bene anche alle parole che Loris ha condiviso con noi, credo, come dire, ci restituisca tre elementi che potrebbero essere, come dire, un po' il frutto di questa conversazione. Ragasse digitali, summer camp, è un'attività che viene proposta in maniera gratuita e questo fa parte anche della funzione sociale dell'università, cioè il poter affrontare un tema che è quello del divario digitale che prende in carico, si prende cura, chi può essere a rischio di divario digitale, poi potete immaginare perché c'è questa azione specifica, perché se andiamo a vedere quali erano le percentuali, quali sono le percentuali di ragazze e di ragazze iscritte ai corsi di studio in ingegneria e in genere nelle discipline STEM c'è un divario molto rilevante e farsene carico significa affrontarlo a partire dalle cause, non a partire ovviamente dal primo anno di università, ma a partire dal corso di studi precedente. E farlo in maniera gratuita, poter partecipare a questa attività in maniera gratuita, penso che sia qualcosa di importante e significativo che mostra anche come sui temi della formazione, come peraltro è sempre stato, il tema della funzione pubblica e della gratuità sia qualcosa a cui non rinunciare. Il secondo aspetto è l'azione positiva, è una classica azione positiva perché si rivolge esclusivamente a ragazze della scuola secondaria, sulle azioni positive, sulle implicazioni delle azioni positive, molto si potrebbe discutere e non lo facciamo in questa occasione, ma da sempre rispetto alle forme di discriminazione, alle forme di esclusione, alle forme appunto di diseguaglianza che poi determinano un mancato accesso, uno degli strumenti di contrasto è rappresentato proprio tecnicamente e anche giuridicamente dalle azioni positive. Ci sono dibattiti su queste tematiche, si parla anche in alcuni casi di una discriminazione a rovescio, io sono un sostenitore delle azioni positive, quindi potremmo aprire un confronto su questi temi, ma la cosa che mi pare rilevante è certo questo tipo di attività si rivolge a ragazze e c'è una giustificazione, c'è una motivazione, ma questo tipo di attività può essere proposta anche ad altri soggetti, ad altri gruppi a rischio di esclusione. Se ne parlava ieri sera appunto la Notte Europea della Ricerca a partire da un'esperienza che è quella di Windsor Park, che è un progetto importante qui a Modena e le attività che vengono svolte a Windsor Park con riferimento all'inclusione digitale, riguardano ragazzini e ragazzine con background migratorio che possono essere a rischio di esclusione e che vengono invece accompagnate ad un percorso di alfabetizzazione digitale. La stessa cosa potrebbe valere, sono state fatte esperienze importanti in passato anche in Regione Emilia Romagna, ricordo un bel progetto che si chiamava Pane Internet per le persone anziane che accompagnava all'apprendimento dell'uso delle tecnologie per evitare una esclusione o una marginalizzazione dalla società della rete della conoscenza per le persone anziane che sono molto spesso persone attive, con energie, con possibilità di apprendimento. Quindi l'idea è che questo tipo di percorsi, di progetti, certo si rivolgono a gruppi specifici ma possono assolutamente essere proposti e replicati a platee più ampie e se c'è partecipazione e sostegno delle istituzioni, credo che questo sia il modo più appropriato appunto per prevenire l'esclusione digitale e per contrastare i divari. Il terzo e ultimo punto, chiudo su questo perché poi queste occasioni di Smart Life Festival mostrano anche delle metodologie, oltre esperienze, progetti, anche metodologie che cosa le tecnologie possono consentire ma anche pratiche molto antiche. Il gioco è una pratica antichissima che fa parte della storia dell'umanità e abbiamo visto come in questo summer camp l'esito finale delle attività consista nella realizzazione o di un videogioco o di un robottino o di una robottina. L'ultimo video che abbiamo visto era il frutto di un'attività appunto di costruzione che avveniva in una prossimità e in una logica che è quella anche del gioco. Si sta lavorando molto su queste tematiche anche nel nostro Ateneo cioè su come il gioco e le pratiche del gioco abbinate all'uso delle tecnologie a metodologie didattiche e pedagogiche possa rappresentare una nuova frontiera della formazione e dell'insegnamento. E penso che anche questo sia un punto al quale dedicare attenzione perché se si può attraverso il gioco contrastare una pratica negativa di esclusione e lo si può fare appunto in un clima non solo di lotte di rivendicazione ma anche di pratica cooperativa, beh forse qualche passo avanti nell'abbattere appunto, nel contrastare i divari digitali ma anche nel mettere in atto una serie di pratiche di interazione inclusiva è qualcosa di possibile, farli in maniera piacevole penso che sia importante. Siamo stati credo nei tempi che ci eravamo dati con l'organizzazione ovviamente questi sono momenti di confronto se vorrete dialogare con Claudia Canali lo potrete fare ha lasciato i suoi recapiti ma se ci sono domande o curiosità per il professor Vezzali o per quella che è stata la nostra conversazione ovviamente anche rispetto alle cose che ho detto anche io lasciamo la possibilità ovviamente di farlo quindi se ci sono osservazioni siamo qua, non ci sottraiamo a osservazioni eventualmente anche notazioni critiche benissimo se parlassi di ragazze digitali grazie, si sente? ma io ho partecipato alla primissima edizione di ragazze digitali e devo confermare che ha funzionato molto molto bene perché poi ho fatto la triennale di informatica a Modena e adesso sto finendo la magistrale di Human Computer Interaction a Trento quindi bellissimo progetto e volevo chiedere informazioni su come eravate riusciti ad identificare i partecipanti, tra virgolette, alle baby gang a Reggio perché ero molto curiosa su come si riesce a identificare in un gruppo così esteso appunto chi può far parte di questo tipo di, tra virgolette, movimento beh, diciamo che l'azione degli organi preposti il punto è che la polizia ovviamente identifica quelli che sono autori di reati o cose analoghe, quindi ha una mappa della situazione derivante anche dall'osservazione insomma di quelli che sono le chat, del chat e del mondo online dall'altra parte l'altro ente importante sono i servizi sociali che non necessariamente hanno una mappa coincidente con quella della polizia si toccano ma non sono sovrapponibili il punto è che è affrontare le persone che in qualche modo creano problematiche ma non tanto per loro, perché gli sta intorno perché se diciamo che oggi è un fenomeno sociale che in qualche modo crea emulazione e lo fa oggi ne abbiamo 10, domani 20, domani 40 che è esattamente quello che sta succedendo da tutte le parti quindi di base si sono unite le competenze da questo punto di vista non le competenze, le informazioni da questo punto di vista i servizi sociali hanno creato un rapporto più stretto con la polizia che all'inizio è stata una cosa diciamo più episodica e adesso invece visto che è importante andare verso questo aggiornamento anche col contributo di Lemore che ha giocato un ruolo in questo si va verso una mappa aggiornata quindi sistematicamente c'è sia un scambio di informazioni sia momenti frequenti di confronto per non solo andare a vedere le persone in questo momento problematiche sono queste ma anche per capire esattamente chi sono perché è fondamentale capire chi sono e lo devi fare mettendo insieme le varie persone che hanno informazioni su di loro perché per dire, faccio un esempio se in un gruppo ci sono 10 ragazzi e adesso la banalizzo però per capire il capetto è uno se tu tocchi anche gli elementi 8, 9, 10 il gruppo resta se tu tocchi il capetto in qualche modo la cosa va a diminuire però devi capire perché ognuno di loro fa un'azione di questo tipo quindi lo fai per visibilità lo fai perché è un tipo di problematica familiare lo fai per cosa perché ovviamente se tu riesci a identificare perché ognuno di queste persone lo fa hai in più margine di identificare l'azione correttiva tipo se manca andate a vedere ogni ragazza ogni ragazza cosa gli piace fare perché in questo modo parallelamente cercando di ottenerlo così in modo da strutturare per ognuno un percorso e questo viene necessariamente da un confronto che è veramente fattivo cioè parlo di una cosa fattiva tra polizia, servizi, comune e università spero di aver risposto quindi vedo queste esperienze nelle scuole, nei contesti socializzanti ma anche sulla rete un'osservazione che mi permetto di fare ma in termini costruttivi ci mancherebbe è quella dell'attenzione che vedo sempre forse un po' bassa al media e al sistema comunicativo che viene utilizzato cioè quello che è il contenuto del messaggio è sempre molto curato c'è sempre una grande attenzione sociologica, psicologica, pedagogica ma quando il messaggio che le istituzioni portano ai ragazzi cade sulla capacità di penetrazione sull'utenza perché il messaggio è prodotto da adulti e il messaggio è prodotto da canali comunicativi che spesso sono vecchi allora mi permettevo di dirlo ma penso che ovviamente lo sappiate già questo preoccupa perché tutto lo sforzo che viene fatto dall'università, dalle istituzioni dalle associazioni dagli educatori che lavorano nei contesti spesso si vanifica perché il media diventa trovate noioso vecchio fatti da boomer come dicono i ragazzi e rischia di perdersi di non arrivare immagino che stiate già pensando e lavorando su queste cose ma mi promettevo di portarlo perché è una riflessione davvero che rischia di buttare all'aria gran parte della fatica grandissima che si sta facendo in questo momento di lavorare sulle tecnologie se si lavora con la testa degli adulti si fa davvero un buco nell'acqua e non si arriva ai ragazzi grazie per l'attenzione grazie tante perché questo è davvero un punto significativo le metodologie gli approcci gli stili comunicativi abbiamo scelto tra le tante esperienze ragazze digitali proprio perché ci sembrava cogliere anche questo aspetto cioè il fatto che ci sia un'attività di gioco un'attività orizzontale che tutto avvenga d'estate in un clima che è quello appunto di un summer camp restituisce appunto uno sforzo di utilizzare anche delle modalità sono modalità di apprendimento modalità di lavoro che dovrebbero essere diciamo in sintonia non eravamo a conoscenza insomma abbiamo avuto come dire una testimonianza con appunto le pratiche dei ragazzi e delle ragazze di oggi e questo tema è uno quindi le modalità ma credo che qui Loris possa aggiungere ulteriori diciamo elementi di questo sforzo che è uno sforzo che deve essere costantemente messo in atto e certamente rappresenta un po' una frontiera quando parlavo del gioco delle tematiche del gioco e di come stiamo lavorando anche a livello accademico su questi aspetti diciamo cercavo di restituire un po' questa tensione l'altra cosa sicuramente i media oggi come dire non potevamo parlare di troppi argomenti ma la costruzione e l'egemonia di certi messaggi sui media rappresentano in parte l'avversario gli avversari per cui quando si diceva lo sport lo sport può essere veicolo di inclusione di promozione di buone pratiche di tutta una serie di azioni di contrasto alle discriminazioni e di varie all'esclusione ma certamente tutta una serie di elementi che fanno parte ahimè non dello sport ma di quello che ruota attorno allo sport i messaggi che vengono trasmessi rappresentano come dire le forme rispetto alle quali dobbiamo dobbiamo lavorare su questo una grande alleanza che forse ancora non c'è questo mi permetto di dirlo su questi temi è proprio con i mondi della comunicazione così come sui temi della violenza maschile contro le donne alcune esperienze si cominciano a fare anche con l'ordine dei giornalisti l'uso del linguaggio le modalità di affrontare le tematiche ecco su alcune delle questioni che abbiamo toccato un protagonismo maggiore di chi fa comunicazione di chi costruisce messaggi di chi come dire determina l'immaginario sociale comunicativo forse dovrebbe essere affrontato o è affrontato ma se affrontato forse solo in alcuni ambiti ristretti invece questa è una tematica centrale per una interazione all'insegna del rispetto e della tutela dei diritti fondamentali per tutti e tutte quindi magari questo è uno stimolo lo proporremo agli organizzatori e le organizzatrici della prossima edizione di come mettere a tema anche il contributo di chi costruisce il messaggio e i messaggi comunicativi nell'ottica diciamo della rete perché tutto ciò che di violento di cattivo di sporco di brutale c'è nella rete è frutto anche della costruzione di azioni di comunicazione e su questo vale la pena lavorare non so se Loris volevi aggiungere integrare e a questo punto anche concludere sì no il professor Casè ovviamente ha un'ottica molto più ampia io rispondo rispetto alla mia esperienza limitata insomma nei progetti nelle attività che vi ho detto è un ambito molto complesso ma in realtà è centrale noi stiamo provando a seguire esattamente quello che è stato detto in più modi ok portando i giovani a partecipare quindi uno stiamo cercando di portare lo sport dentro le scuole lo sport fatto da role model quindi prendere delle società ad esempio la reggiana che hanno dei pari età che però sono visti in qualche modo e stiamo lavorando molto abbiamo sempre più eventi che fanno questo quindi ad esempio ieri per esempio c'è stato un evento a Reggio Emilia nella piazza centrale dove la polizia la festa della polizia presentava esperienze sulla legalità in piazza abbiamo portato sia i ragazzi delle scuole sia i ragazzini dello sport che interagivano direttamente con le altre scuole e con la cittadinanza quindi da un lato stiamo cercando di rendere a livello di eventi e cercare di capire se riusciamo sopra questo a creare un'architettura più strutturata al momento siamo su una serie di eventi che portano direttamente ragazzi che però siano ragazzi in qualche modo rappresentativi di qualcosa per gli altri cioè che possono creare in qualche modo emulazione dall'altra parte su questi progetti sull'uso dei media stiamo ragionando su una strutturazione di contenuti video o altro che siano effettivamente diversi cioè lo stesso messaggio verrà mandato tipo che ne so a fine anno faccio un esempio ad esempio sul bullismo ma pensato differentemente con un video che affronta lo stesso contenuto per facebook che ovviamente è una certa tematica ma in modo completamente diverso con altri attori per tiktok però stiamo lavorando sulla differenziazione dei target e ci vuole un attimo la frontiera di tiktok è un altro ambito sul quale lavorare e lavorare insieme beh insomma abbiamo messo a tema le questioni che volevamo condividere speriamo di aver fornito qualche spunto qualche anche curiosità rispetto ai progetti e a quello che si fa all'università a Modena e Reggio Emilia ma non solo un'università che deve essere anche appunto aperta mettersi in discussione ascoltare e soprattutto lavorare insieme ad altri enti istituzioni associazioni con cittadini e cittadine è un po' il compito che ci diamo come Ateneo e ringraziamo l'organizzazione appunto di Smart Life Festival per aver consentito anche di condividere alcune di queste esperienze grazie e buona giornata a tutte e tutti grazie 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 a tutti